Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in AndroLink e bentornati su Meitopia, nuovo episodio! La scorsa volta abbiamo preso un bel cavalluccio e abbiamo fatto la conoscenza di sua maesta il re e se non avete visto lo scorso episodio non avete idea di chi io abbia scelto, di quali personaggi abbia scelto per il principe di Aridosso, per l'amore segreto della principessa e la principessa stessa quindi andatevelo a recuperare e poi tornate qui magari. È la prima volta che dico una cosa del genere. Ad ogni modo oggi andremo a salvare la faccia del re perché sì la faccia del re è stata rubata da chi dal duca del male e per chi è stata rubata? Perché il re dice no non credo che le facce vengano rubate e lì karma bitch e lì il karma ha colpito sua maestà. Quindi cominciamo subitissimo questo episodio a piena potenza tra l'altro ho un po' di soldini messi da parte nel gioco se non sbaglio quindi potrei comprare un nuovo microfono per Ayumi mi sembra che volesse il microfono lei. Magari appena finiamo questo piccolo percorso poi vedremo se ne ha ancora bisogno Attenzione un nuovo nemico il talpun! Vediamo un po'? Buono! Oh ma tira i sassi tira? Oh però ha fatto danno eh! Ha perso un bel po' di PS Ayumi Ah però non è molto resistente Ma buono! Coppa falda! Ah un nuovo tipo di cibo Ci voleva Aumenterà la velocità? Attenzione! Andrinca ha trovato una pozione! Che faccio? E bevila! Ha uno strano odore! Bevi comunque! Mmm che bontà! Sì non ho recuperato nulla perché non ho perso nulla Logica In Pokémon Mystery Dungeon quando hai lo stomaco pieno ti aumenta i PS Se mangi ancora quindi perché voi non l'avete fatto? È retorica la domanda ok? Perché sono sicuro che nei commenti ci sarebbe stato qualcuno Eh Andrinca non l'hanno fatto perché così 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 C'è sempre qualcuno Che risponde a domande retoriche Ma i Talpun si nascondono anche? Che facciamo a Chiappara d'Alpa? Prima azione energica! Carica eccessiva! Vai Ayumi! Ah ok si fa male anche lei Beh allora ti sbucci le ginocchia no eh? Dopo i tuoi fan che dicono quando vedono che ti sei sbucciato le ginocchia? Pensano che c'è il ragazzo invece no Aha abbiamo altre diramazioni prima di arrivare dal re eh? Eila! Eila! Salve! Quanto? Beh prima andiamo di qua ragazzi Dobbiamo salvare il re anzitutto Oh cavalluccio Una prima azione a due in sella così Bella! Let's go! Grande! Tratta cavallino! No sono cascato dai! A che serve allora? Ma no! Ah però torno in sella torno Andiamo sopra Se andiamo sopra almeno facciamo prima a trovare il tesoro Ok la boccata d'aria fresca potrei prenderne anche due Grazie alberi! Sì grazie alberi! Gli alberi in realtà ci stanno allevando Stanno allevando noi umani Perché producono ossigeno gli alberi E in questo modo ci fanno vivere E producono anche cibo che mangiamo Alcune piante sono commestibili no? Tipo pomodori Insalata Rucola Valeriana Eccetera eccetera E Una volta che moriamo Torniamo alla terra E concimiamo Le piante Ragazzi Noi siamo In una fattoria Il mondo è una fattoria In realtà È un po' come The Promised Neverland Ah se non avete letto The Promised Neverland Leggetelo E non guardate l'anime Leggetelo che è meglio Attenzione forziere grande Ah cono gelato Per Ayumi Solo statistiche Tesoro è brutto forte quel cono gelato Cioè buono ma Bella lei Ma che cosa? Ma che discorso era? O tagliando di gioco Grazie Ovviamente devo prendere anche le altre strade Del percorso che ho appena fatto Quindi Il signore Re Aspetterà ancora un po' Non so se c'è una specie di achievement Se completi la mappa al 100% Non che io debba per forza completarla al 100% Ma Mi piace avere un gioco Quanto più completo possibile Ho finito finalmente tutto quanto il percorso E Borghese vuole una divisa raffinata Ok Però No Cioè Ma che Infatti ma che? Ma 630 ne ha spese Ma sei scemo allora Bah possiamo finalmente arrivare qui Al bosco perditi tu Ah let's gauze Hop hop Evviva Topolino Dite evviva Ayumi vuole bene Andrelink Anche Borghese vuole bene Andrelink Senti Preferisco un po' Ayumi Eh Non per qualcosa ma Tutto bene voi due? Sì Non mi sembra Però mi vogliono bene C'è qualcuno che mi vuole bene Che bello Oh Un altro percorso che si dirama Eh Già Mi piacciono i percorsi che si diramano Uh farfa veleno È nuova Chissà che ci dai di cibo No farfa miele Anche quelle normali Quindi va bene Oh Ci accampiamo per la notte Chi rimarrà a fare la guardia Andrelink Perché la zona non è molto sicura Uh Andrelink si sta assopendo No E infine giunse l'alba Aia Non si dorme in servizio Per fortuna è andata bene Per fortuna Ci sono delle tracce di mostro qui Ma penso che sia un dialogo generico Però Ragazzi Ehi Il gioco si sta rivelando più profondo Di quanto non pensassi In termini di Ruolo In termini di GDR Intendo Rimaniamo alzati a fare la guardia Ci addormentiamo anche sul posto Può succedere effettivamente Un GDR Vabbè in un GDR vero Tiri i dadi E via Invece qui È un po' casuale ma Va bene Per fortuna è andata bene Il borghese vuole una padelliera esoterica Cosa? Una padella Non una padelliera Una padella Sì Solo statistiche Perché è brutta Mamma mia Il gruppo ragazzi diventa sempre più forte Sono molto contento Possiamo quindi andare a salvare Il re Era qui il re se non sbaglio Mi pare Poi magari potrei anche sbagliarmi Tra l'altro qui dovrebbe aprirsi anche la strada Per andare a prendere il tesoro Che abbiamo visto nell'overworld E Uh le talpe È un po' che non vedevo talpe Oh grande Dai che ce la facciamo Ah solo una Peccato Oh queste che tirano i sassi Eccidenti a loro Uh Bene Vai Yumi Grande Ragazzi Il gruppo è una Trovo delle belve Attenzione c'è un forziere E una caramella PM Va bene Ha molte caramelle PM A dire il vero Oh attenzione ecco il re Qualcuno mi aiuti No Il golem no Aiaiai Questo è tosto mi sa E qui dovrò usare Anche le trappole Va bene Va bene Bello però accidenti Molto bello Abilità magia Trappola Metto una trappolina Oh attenzione Fuoco contro una roccia Va bene che non è Pokémon Ma Uia Oia Aiaiai Pepiera PS Alama Ok Ayumi Ok Per Oh anche io Ho perso un po' di PS Ah Va bene Ok Continuiamo la battaglia Attacco Vai Buono Ma mi sa che ce la facciamo a sto turno Eh Sì Dai Ayumi Ah ok Inno è l'amicizia Ah c'era mia trappola ancora Sì è vero Attacco col cavallo È fatta ragazzi Oh Eccolo Per Borghese Ayumi Manchi solo tu col cavallone Yes Bomba Molto molto facile A parte vabbè ragazzi Ho un gruppo che Ho potenziato i vestiti Ho potenziato le armi Wow Quindi credo che sia stata un pochino più semplice farla Sono ancora tutto intero? Beh il tuo corpo sì La tua faccia forse un po' di meno Uh Eh già Few Uh livello 10 No livello 9 sono Sono a livello 9 50 punti in più d'alama Che raggiunge anche lei il livello 9 Filetto di golem Oh Accidenti Oh Deve essere interessante Il volto del re ha fatto torno a castello Mmm Dovrò andare a castello a indagare allora Ora Questo filetto di golem Aumenta l'attacco Beh È buono E ci credo Filetto ci mancherebbe pure che è cattivo Vediamo un po' se il re ora è soddisfatto Che la sua faccia è tornata Così può tornare anche a mangiare Uh che sollievo Wow Sì effettivamente Quello è L'effetto che fa questa scena Il mio prezioso volto Finalmente ho recuperato le mie regali sembianze Grazie infinite È il consegno della mia reale gratitudine Ora bisogna recuperare il tempo e le energie perdute E le calorie perdute Quanto mi sei mancato Mi socculento cosciotto Quel duca del male Gianni è una vera minaccia per noi Finché quel furfante non sarà fermato Nessuno potrà sentirsi al sicuro Allerta la principessa e penserò a un piano No posso andare alla principessa Le stanze della principessa E se non era pronta ad accogliere i visitatori Cioè dalla scena che ha fatto Magari poteva essere bruttissima E sarebbe funzionata meglio Però l'ha voluta fare Decente Sì E tu chi saresti? O mai vuoi amare? Ciao io sono Andrelink Il duca del male Ah no il duca del male Il duca del male è andato ad attaccare la città di Verdalboria Ma è spaventoso E Chad Chissà se sta bene Oh chi lo scusa Sono preoccupata per un mio amico che era in città Potresti andare a verificare come sta Chad? Certo Ah potevo chiamarlo il Chad Oh ti ringrazio di cuore Quando l'avrai incontrato Riferisciti per favore che Zelda impensirà per lui Andiamo a trovare Chad allora A vedere se sta bene Cosa? Cos'è quel nemico? Scusami Questo è raro Burletto aureo Aiuto mi attenta Vabbè allora scusa eh Chissà se è forte Uh sconfitto Quindi cosa succede? Che bonus ci dà quel burletto aureo? Monete C'ha dato mi sembra 500 monete Quindi da soldi Oh attenzione Oh avventuriero Thomas è scomparso L'ho cercato dappertutto Mi aiutereste a cercarlo? Per favore Va bene In realtà l'avevo già chiesto a un'altra persona Non vorrei sembrare riconoscente però Non credo che sia all'altezza del compito Ecco perché mi sento sollevato all'idea che tu sia qui Quindi l'aveva chiesto a Chad eh Il Chadometro segna zero ragazzi eh Chad non mi far Non farmene pentire Ci siamo Tommaso Dove ti sei cacciato? No lasciami stare Quella voce Qualcuno mi aiuti Devo fare qualcosa Ehi voi Lasciate in pace quel bambino Quale danza? Quella è strampa danza L'hanno ucciso Chad Tu non sei un Chad Io ci ho provato Ma senza riuscirci Per favore salva quel bambino Tu non sei un Chad Devo rivedere il tuo look Mi sa eh Buu mammina Rampollo decaduto Chad Non proprio Però è sorridente Grazie mille per il tuo aiuto Mi chiamo Chad Solo di nome Oh quindi tu sei La principessa Zelda Era in pena per te La principessa per me Ah quale felicità Oh Lasciamo perdere Piuttosto Cos'erano quei mostri? Lo metti a corrente di tutto Mi distraggo un momento E va a finire Che il mondo è in pericolo Certo Il modo in cui ho affrontato Quei mostri È stato ammirevole Incredibile Mentre io non sono riuscito A muovere nemmeno un dito Devo proprio andare adesso Va bene Chad Sei un Non sei un rampollo Decaduto Tu sei un pollo Andiamo ad informare Sua maestà La principessa E quindi Chad E quindi Chad è un pollo Quindi Chad è salvo Dici? Che sollievo Ecco qui una ricompensa Più che meritata Orsù figlia mia Devi togli Il tiro da testa Quel dammerino di Chad Ricordo che Dopotutto Sei promessa A principe Handsome Squidward Sono stato chiaro Sì padre Purtroppo sì Vabbè Cara Io vado Che c'ho da fare Ah Devo parare con sua altezza Il futuro sposo Della principessa Dovrebbe già essere In viaggio Ah dal momento Che sei qui Potresti scortarla Fino al castello Ok Il promesso sposo Di mia figlia È il principe Del regno confinante Mi hanno informato Che attende Vicino alla frontiera Al monte Potreste andare In contro Ci penserei io stesso Ma il dovere Mi chiamo Vabbè Magna sempre Lì sì Quindi Vediamo un po' Dov'è Questo regno Confinante Ah È su Ah Ok Devo arrivare La quindi Praticamente Va bene Ci arriverò Magari Nel prossimo episodio Io più che altro Vorrei andare lì In quel punto Si potrà Prendere Lo scrigno Facendo un'altra volta Questo livello Dubito Però ci provo Allora ragazzi Questo video Termina qui Magari Troverò il modo Di prendere Quello scrigno In qualche maniera Andando avanti Anche nel gioco Comunque Sia nel prossimo episodio Dovrò fare da scorta Al principe Del regno Confinante Che deve prendere In moglie La principessa Zelda Il principe Handsome Squidward Quindi stiamo facendo Un'avventura meme Noi Che è tutto un dire Ad ogni modo ragazzi Come sempre Vi ringrazio per aver seguito Il video Che spero vi sia piaciuto In descrizione Trovate il link Per Instagram Come sempre Lo shout out Dalla youtube Start game Che fa parte Della tier star E noi come sempre Ci vediamo Al prossimo video Bye bye